buongiorno Cristina anzi diciamo che la giornata è bella buon pomeriggio perché comunque le ore adesso del sole ancora ci baciano e tu sei veramente inondata da un raggio di sole e per cui porti come sempre nelle nostre nelle nostre case ma anche nella nostra amicizia un raggio di sole buongiorno a tutti grazie continuo col buongiorno ben trovati a tutti ben trovati a tutti e grazie per essere qui al secondo appuntamento con la nostra meravigliosa professoressa Giorgetta Bonfiglio Dosio perché perché come vedete ci siamo attrezzati ad oggi con il nostro progetto Amarare e la professoressa Bonfiglio Dosio Giorgetta Bonfiglio Dosio esperta archivista possiamo dirlo di fama internazionale a me piace raccontare quando una persona è brava ed è del territorio patavino con la sua associazione archiva appoggia questo percorso culturale importante che fa parte del di un macro progetto appunto Amarare Amarare nasce da un concetto di condivisione della conoscenza con il territorio delle opportunità che sono messe a disposizione secondo le competenze di diversi professionisti e nell'ambito specifico non solo della malattia rara ma della fragilità e si è fragili quindi quando non si conosce giusto Giorgetta come interpreti sicuramente sì ecco la mancanza di conoscenza però è implementata sicuramente ed è corregibile quando ci si rivolge nei posti giusti si interloquisce con le persone giuste o ci si informa anche nel giusto modo e visto e considerato che questo è un progetto in rete che vede Padova capofila con dei partner in altri ambiti del territorio veneto quali tiene quell'uno o Euganeo la nostra professoressa ci ha fatto il piacere e ci dà la gioia di portare nell'ambito proprio degli incontri anche questa serie dedicata alla cultura la cultura del territorio e le sfumature della cultura del territorio che possono essere anche delle chiavi di lettura non solo per la conoscenza del passato ma per una buona qualità di vita del futuro Giorgetta racconta qualcosa di più e poi introduciamo la tua lezione bene allora io partirei subito anche con le mie slide che sono ricche di fotografie sempre con questo tentativo di collegare le varie testimonianze da cui noi possiamo trarre conoscenza quindi non solo i documenti d'archivio che evidentemente mi sono più familiari ma tutta una serie di tracce che la storia ha lasciato sul territorio e che possono secondo me essere usate e vedremo come il titolo è ambizioso e forse mi rimprovererete per questo titolo troppo ambizioso è la cultura come medicina dell'anima e quindi andare dal passato al futuro avendo la consapevolezza del nostro presente quindi io adesso condivido con voi le mie slide perfetto grazie Giorgetta prima di dedicarci ad ascoltare la tua lezione che poi in realtà è un momento di intrattenimento conviviale vorrei dire anzi di ringrazio per la qualità con la quale esponi poi questi percorsi un ringraziamento va nel giorno della festa del papà tra l'altro per cui mettendo sempre al centro la famiglia così come noi mettiamo sempre al centro i valori ringraziamo la regione del Veneto per ovviamente averci dato questa opportunità così importante il progetto è supportato dalla DGR trecci 2021 e quindi viene finanziata da fondi del ministero delle politiche del lavoro e del sociale quindi abbiamo una visione ancora più allargata della possibilità di poter utilizzare bene questo danaro a disposizione dei cittadini quali sono invitati a mandare domande a interagire e poi ovviamente tutto sarà inserito in YouTube e anche nella nostra pagina social di Facebook centro servizi MR in modo che rimanga a disposizione quindi grazie a tutti e la parola va alla professoressa Giorgetta Bonfiglio D'Oseo Buona giornata Grazie Grazie Ecco qua Allora qua PowerPoint Consenti Eccoci qua Quindi vi dicevo volevo affrontare questo tema della cultura come medicina per l'anima Io sono felice di incontrarvi un'altra volta già mi conoscete per l'intervento fatto quasi un mese fa e che cosa è cambiato in questo mese e noi cambiamo come ci insegna il filosofo greco eraclito pantarei cioè tutto scorre nessuno di noi è lo stesso dello scorso incontro ma oltre a questo normale trascorrere del tempo si è verificato in questo periodo un avvenimento sconvolgente un avvenimento sconvolgente che trapassa le nostre coscienze le nostre anime scatenando in noi emozioni sentimenti convincimenti che sono il riflesso tutto sommato del nostro vissuto oltretutto questo avvenimento sconvolgente si sovrappone ad un altro che non è ancora concluso che ci ha che ha fatto irruzione proprio in maniera molto traumatica nelle nostre vite nelle nostre abitudini quotidiane e che ci ha segnato e modificato e spero fatto riflettere e meditare e per cui queste due cose questi due contesti di sofferenza di cambiamento di prospettiva mi hanno convinta a dare un'impostazione diversa al mio intervento rispetto a quello che pensavo quando ho dato questo titolo e mi riferisco a un grande storico francese del passato Marc Bloch che nel suo libro Apologia della storia ovvero il mestiere dello storico sostiene che tutta la storia è storia contemporanea che cosa vuol dire che anche quando noi studiamo delle cose lontanissime nel tempo lo facciamo perché siamo spinti dal desiderio di conoscere un pezzo del nostro animo un pezzo del mondo in cui stiamo vivendo e stiamo soffrendo teniamo presente che Marc Bloch oltre ad aver innovato l'approccio degli storici al passato è stato anche impegnato civilmente e politicamente lui si è fatto sia la prima guerra mondiale sia la seconda guerra mondiale e poi è morto in carcere in quanto esponente della resistenza francese la prima domanda che mi viene spontanea è che cos'è effettivamente la cultura perché noi parliamo di cultura e qua mi devo far perdonare da tutta una gamma di colleghi a cui chiedo scusa subito ma penso che ognuno di noi abbia il diritto di porsi delle domande e anche il dovere in certe posizioni di porsele pubblicamente onde farci riflettere insieme farci riflettere un po' come comunità di cittadini di persone che hanno una ragione che hanno un'intelligenza che hanno soprattutto dei sentimenti e quindi cosa vuol dire cultura vuol dire possedere tante informazioni sapere tante cose vuol dire organizzare partecipare a eventi culturali vuol dire visitare tanti musei tanti siti archeologici tante città oppure leggere tanti libri partecipare a tanti dibattiti conoscere appunto i fatti storici con la presunzione di conoscerli oggettivamente perché li ricostruiamo attraverso i documenti vuol dire banalmente lavorare all'interno di un istituto culturale come definito dalla normativa il codice di tutela dei beni culturali oppure realizzare in prima persona delle opere artistiche ecco queste sono le domande di fondo e quindi a che cosa serve la cultura e qua ci sono due frasi pronunciate da due ministri della nostra repubblica italiana il primo ha detto qualche anno fa con la cultura non si mangia e da lì sono iniziate tutta una serie di tagli o almeno di non investimenti costruttivi un altro adesso cambiato un po' il vento cambiato il contesto la cultura sarà strumento di ripresa economica ecco chi dei due ha ragione a voi il verdetto io vi propongo delle mie risposte nel senso che secondo me cultura non è una cosa o un'attività specifica la cultura è un atteggiamento è un metodo per vivere la propria vita quindi ha questo connotato di arricchimento anche delle nostre capacità di valutazione la cultura è curiosità curiosità ci spinge verso gli altri ci spinge a uscire dalla nostra visione egocentrica e anche a volte egoistica quindi a fare a essere attenti verso gli altri a prenderci cura degli altri poi cultura è la voglia di capire senza condizionamenti quindi cercare i documenti però tutti i documenti che sono testimonianze ecco una delle cose belle del codice di tutela è che si parla di espressione di civiltà civiltà inteso alla francese civilisation quindi cercare le fonti per capire anche il nostro contemporaneo che è la cosa più difficile da capire perché non abbiamo tutte le fonti a disposizione perché ci sono delle secretazioni ci sono delle impostazioni delle predirezioni che ci danno i cosiddetti poteri forti quindi cultura è la capacità di capire di smontare le fonti come se fossero dei giocattoli per vedere come sono fatti dentro è quella che si chiama l'esegesi delle fonti cultura è empatia e questo si riaggancia proprio a bloc perché tutta la storia è storia contemporanea empatia vuol dire sentire con gli altri vuol dire prima di tutto il rispetto per l'altro da sé l'altro da sé è espressione ripresa da un altro storico francese Marou esperto di storia dell'antichità quindi rispetto per l'altro da sé come oggetto di ricerca ma altro da sé quindi rispettare quello che tu stai studiando le persone che tu stai studiando e questo è una cosa che dovrebbero avere tutte le discipline tutte le scienze pensate anche alla medicina cioè avere empatia per il malato per la persona fragile non vuol dire avere pietà ma vuol dire capacità di capire quello che hai di fronte che è diverso da te e questo deve averlo anche il ricercatore che fa storico che fa ricerca storica poi cultura è la capacità di analisi critica e di interpretazione senza pregiudizi paradossalmente riuscire a staccarsi dalle proprie emozioni transitorie perché tutti noi io dico che l'impressione che do agli altri è quella di un essere assolutamente razionale freddo credetemi che io sono una rampata di fuoco cioè il mio primo impulso è veramente esplosivo dopo però uno si si controlla e si e affronta le cose in maniera appunto scientifica paradossalmente dicevo questo apparente distacco questa freddezza d'analisi è una invece una realizzazione e un'affermazione di sé perché attraverso il mondo che ti circonda e le cose che vedi che analizzi tu capisci meglio te stesso cultura però per me è anche impegno e partecipazione quindi fare cultura essere un uomo una donna di cultura non è soltanto fare un mestiere non è essere mestieranti per quanto bravi per quanto attrezzati ma vuol dire usare anche la cultura per produrre quegli effetti positivi sulla società sul benessere degli altri ecco quindi quando il passato può farci riflettere e può attrezzarci per fare delle scelte costruttive ripeto per il futuro quindi non vorrei ripercorrere la banalità dell'istoria magistra vita cioè la storia come maestra di vita perché tanto non hanno mai imparato niente dalla storia quindi potrebbe essere abbastanza sconsolante questa cosa e io ho ridiretto il mio intervento di oggi sulla assistenza ai bambini abbandonati quelli che noi in Veneto chiamiamo esposti in altre aree d'Italia chiamano i gettatelli chiamano appunto i bambini abbandonati e perché allora questo aspetto che io ho analizzato a tappeto per il Veneto nei primi anni 90 e vi dico che la freddezza del ricercatore viene messa ad una prova anche quando vieni a contatto con questi che diventano percorsi di vita e quindi le persone che riemergono da da un documento d'archivio ma poi sono tornata su questo su questo tema in occasione di un convegno che vi presenterò dopo perché le esperienze venete i modelli per la soluzione del problema dei bambini abbandonati è tornato all'attualità è stato usato come caso di studio in in due momenti traumatici degli anni 80 cioè quando è caduto Ceusesco in Romania e si sono ritrovati con orfanotrofi pieni di bambini e quando è successo il disastro di Cernobyl in Ucraina tra l'altro a Vicenza Vicenza l'istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza ha dei soci degli studiosi che hanno organizzato concretamente dei soggiorni per i bambini di Cernobyl in Italia e soggiorni estivi ecco nel 2010 c'è stato un convegno internazionale intitolato la ruota della vita l'infanzia abbandonata dal Medioevo ai giorni nostri due paesi a confronto Italia e Ucraina però si considerava anche la Romania e poi questo convegno ha prodotto anche gli atti per la storia dell'infanzia abbandonata in Europa tra est e ovest quindi le storie venete sono state perlomeno occasione di riflessione spunto per programmare degli interventi almeno parzialmente risolutori di questo grosso problema che si sono trovati ad affrontare questi due paesi dell'est per quel che riguarda l'Italia in generale noi assistiamo nella prima metà del novecento a quella che si chiama omologazione istituzionale fascista che interviene in più settori della vita delle popolazioni interviene ad esempio in un settore delle cooperative di consumo eccetera che erano quasi tutte in veneto intitolate a Giuseppe Garibaldi che è l'eroe popolare con il quale si coagulano appunto queste iniziative di assistenza alle fasce deboli della popolazione anche lì vengono praticamente appiattite in una normativa nazionale lo stesso avviene per l'assistenza ai bambini abbandonati tra l'altro con delle sovrastrutture di pregiudizio quindi di condanna per appunto la madre inubile che diventa la peccatrice eccetera cosa che invece non c'era in precedenza quindi in epoca fascista c'è questa omologazione per cui si annullano molte particolarità molte peculiarità legate ai territori e si crea una una un'assistenza che sia omogenea in tutta Italia quindi tra le altre tra gli altri interventi c'è l'istituzione nel 1925 dell'OMNI cioè Opera Nazionale Maternità Infanzia che poi ha funzionato anche dopo la caduta del regime fascista fino al 1975 quindi questa questo rullo compressore della normativa fascista ha eliminato tutte le iniziative precedenti e le ha molto anacquate e invece in Veneto queste si erano sviluppate sempre nell'ambito della beneficenza prima ancora che dell'assistenza secondo modelli molto differenziati da città si possono vedere sostanzialmente tre modelli il modello veneziano in cui lo Stato la Repubblica gioca un ruolo molto importante sia per dotare finanziariamente l'istituto che poi vedremo della pietà sia per dare uno sbocco professionale quindi una prospettiva di vita ai figli della pietà ai figli e alle figlie della pietà oppure la la grande rilevanza che i battuti i battuti sono dei penitenti che nascono nel 1260 e poi fondano in giro per l'Italia molti ospedali ospedali prima generici e poi magari che si specializzano in un in un settore dell'assistenza o in un altro ecco i battuti hanno una grande rilevanza nella fondazione di queste di queste strutture assistenziali agli esposti sia a Vicenza sia a Treviso mentre Verona e Padova conoscono delle iniziative private che però poi sono sorrette in maniera robusta dalle istituzioni comunali quindi vedete modelli assolutamente diversi ma adesso li vedremo in concreto allora Santa Maria della Pietà la la conoscete tutti io vi mostrano anche immagini proprio delle architetture dei posti dove queste istituzioni si sono ravitate e questa è la la chiesa di Santa Maria della Pietà sul vicino a San Marco sulle fondamenta che vanno verso i giardini e questa è la chiesa tra l'altro dico un aneddoto negli anni 80 l'archivio della Pietà che non era stato ai tempi di Napoleone concentrato e quindi portato nell'attuale archivio di stato era proprio nella parte superiore della chiesa dove vedete il timpano con il rosone centrale eccolo abbiamo trovato lì e la 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 Pietà nasce sostanzialmente nel 1346 per iniziativa di un frate francescano e nasce da subito come istituzione che si dedica agli esposti e gli esposti poi erano allora tenete presente che la i problemi sostanziali del dell'esposizione e della sopravvivenza degli esposti sono legati al fatto come il bambino arriva nell'istituzione assistenziale quindi come viene abbandonato di solito viene abbandonato di notte perché uno non vuole farsi riconoscere un altro convegno che abbiamo fatto sulla realtà veneta aveva come titolo benedetto chi ti porta maledetto chi ti manda per cui la gente lasciava lì questi bambini di notte per non farsi riconoscere molte volte erano poco coperti quindi se voi vedete poi i registri in ruota che sono i registri dove sono segnati tutti i bambini che entrano vedete una selva di croci cioè perché la mortalità per il Natale era enorme era enorme anche perché questi bambini dovevano essere nutriti tenete presente che il latte artificiale viene scoperto viene lavorato nella prima metà del novecento quindi prima per sfamare questi e per allevare questi bambini il problema avevano anche inventato degli intrugli che non sto a raccontarvi ma appunto c'era una serie di baglie le baglie interne che erano lì perché arrivava il bambino alle tre di notte dove dagli da mangiare e poi c'erano invece le baglie esterne perché in questi istituti erano questi istituti erano a volte anche sovraffollati quindi poi i bambini venivano assegnati a delle famiglie assegnatarie a cui si pagava una dozzina quindi si dava un compenso e queste famiglie che erano famiglie di origini anche umili prendevano volentieri questi esposti anche perché avevano questo contributo questa dozzina però a volte succedeva che il bambino mentre era presso la famiglia moriva per cause anche naturali eccetera e allora siccome sarebbe dovuta venire a mancare questa dozzina le famiglie sostituivano il bambino magari con uno dei loro figli quindi a questo punto la pietà marchia a fuoco i bambini con una P la P della pietà su un piede proprio per evitare le truffe può sembrare una cosa barbara in altre istituzioni in giro per l'Italia gli si metteva ad esempio un colladino gli si piombato quindi ecco c'erano vari modi per identificare il figlio dell'istituzione il bambino che apparteneva quindi dicevo c'è questo bagliatico interno e questo bagliatico esterno tra l'altro vado un attimo avanti le famose baglie bellunesi è stata fatta anche una mostra su queste baglie bellunesi e vedete queste foto anche di epoca abbastanza recente rispetto alla storia millenaria della esposizione e il modello veneziano poi è particolare perché la normativa della repubblica imponeva i nottai che raccoglievano le ultime volontà dei testatori e raccomandavano appunto i nottai di suggerire ai testatori di fare dei lasciti si diceva proanima quindi destinati appunto a fare dei lasciti alle famose quattro istituzioni benefiche veneziane tra queste c'era la pietà poi i figli della pietà erano assistiti a vita però si cercava una loro collocazione per cui i maschi avevano un accesso privilegiato alle arti cioè le corporazioni di mestiere in particolare moltissimi vanno finire nell'arsenale di Venezia cioè il posto dove si costruivano le navi le figlie e si cercava di collocarle oppresso delle famiglie come si deve ma molte anche in posizioni umili quindi non solo come mogli di bravi artigiani di bravi ragazzi ma anche come serve all'interno di famiglie nobili eccetera molte venivano reimpiegate all'interno della della pietà stessa per appunto svolgere tutti i servizi perché lì c'erano tante persone dentro all'istituto le baglie ecco le baglie bellunesi e tra l'altro a Belluno non c'è un brefotrofio cioè un istituto che assiste gli esporti c'è la notizia di un ospedale della Madonna del Prato a Feltre perché voi sapete che tra l'altro Feltre nei secoli dell'età moderna è più importante di Belluno che invece decolla come città proprio nell'Ottocento perché è sede di istituzioni di sedi militari ecco è sede di caserme eccetera e qua abbiamo un quadro di Giovanni Bellini che rappresenta appunto la Madonna del Prato e sullo sfondo l'ospedale l'ospedale omonimo di cui qua vi do un particolare alla Pietà di Venezia noi conosciamo della Pietà di Venezia noi conosciamo un personaggio famoso a livello internazionale Antonio Vivaldi il famoso Prete Rosso che nasce a Venezia ma muore poi a Vienna perché va via da Venezia cioè ci sono anche tutte delle cose romanzesche voi sapete che poi il fondo dei manoscritti di Vivaldi riaffiora dopo in epoca fascista in Piemonte e adesso è tuttora conservato in Piemonte ecco Vivaldi è maestro di violino alla Pietà dal 1703 al 1720 e di fatti e di fatti ci sono appunto le esibizioni delle putte cioè delle figlie della Pietà e qua è una rappresentazione pittorica di questi eventi dove intervenivano appunto interveniva il fiorfiore della società veneziana ecco si diceva la fondazione di un francescano la Pietà accumula accumula sempre dei cospicui beni e anche nella zona vicino alla chiesa della Pietà che ha tuttora ecco che ha tuttora naturalmente con la Pietà è anche sotto il patronato del Doge e quindi aveva queste agevolazioni per l'iscrizione dei propri assistiti nelle arti veneziane sulla Pietà si abbatte l'ondata napoleonica per cui viene soppressa e viene messa cioè soppressa continua a funzionare però non in maniera autonoma perché viene messa le dipendenze della congregazione di carità per cui anche l'archivio del precedente è conservato l'archivio di Stato di Venezia riacquisisce l'autonomia amministrativa nel 26 e si chiama casa centrale degli esposti a Venezia poi si elabora nel 1836 un regolamento che viene poi progressivamente adottato da tutti gli altri befrotrofi veneti ecco viene sta sotto la la congregazione di carità nel 71 nel 1871 passa sotto la provincia la provincia come ente locale ha un'importanza straordinaria nelle storie di questi istituti perché esercita la vigilanza perché sapete che ci sono soldi alla fine possono esserci anche degli scandali e bene poi questa dipendenza dalla provincia c'è tuttora il problema qualche anno fa è stato quello di ridisegnare le funzioni di questi istituti e grandi dibattiti a cui abbiamo partecipato anche noi storici archivisti perché il numero degli esposti era fortunatamente sceso però allora si sono decisi altri interventi quindi questa comunità melograno oppure la comunità primavera che accoglie le madri e le gestanti in difficoltà e quindi gli alloggi accoglienza l'atelier pedagogico la culla segreta per per far sì che i bambini non venissero abbandonati appunto per strada al freddo eccetera ecco questo questa questa evoluzione è molto interessante per capire quando viene si attenua un'esigenza ma ne vengono fuori delle altre ecco quindi la pietà poi eroga anche servizi culturali quindi all'archivio al museo alla chiesa fa i concerti fa delle esposizioni fa i convini e poi si è lanciata anche nel settore turistico perché è una casa per ferie questo anche per incentivare le entrate Padova Padova è attestata o un'accade Dio a partire dal 1118 tra l'altro vedete qua la copertina di un libro di uno dei direttori dell'accade Dio che ricostruisce appunto la storia ecco dove era per chi è di Padova dice ecco era nella zona di via San Biagio via Santa Caterina e all'inizio eroga assistenza a tutta una gamma di bisognosi quindi anche pellegrini o auspizium da cui viene poi ospedale vuol dire proprio posto dove uno può trovare un rifugio sicuro quindi sia che sia malato sia che sia viandante sia che si abbia bisogno di assistenza quindi non servono grandi cose noi abbiamo visto la pietà che ha questa monumentalità eccetera ma fino ad esempio al 1271 era ospitata in una costruzione in legno che poi viene progressivamente ampliata e ristrutturata con i fondi del comune della comunità di Padova e anche anche la Cade Dio a Padova fruisce gode di lasciti testamentari uno famoso è questo di Modesto Polentone Modesto Polentone è un notario è figlio del famoso umanista e notario Sicco Polentone che è stato cancelliere della comunità di Padova dal 1420 al 1430 qua vedete la sua statua in Prato della Valle e noi sappiamo da appunto anche dal suo testamento che nella prima metà del quindicesimo secolo cioè nel quattrocento la Cade Dio dà ancora assistenza agli infermi e agli orfani invece nella seconda metà del secolo avviene quel processo che attraversa un po' la storia del del quattrocento italiano anche in altri settori si tenta ad esempio a Milano a Firenze eccetera il processo di specializzazione cioè ogni ospedale prende una strada ben precisa cioè esplica una vocazione specifica quindi noi sappiamo dal testamento di Sico Porenton che diventa la Cade Dio ospizio dei fanti esposti quindi dei bambini esposti dove si trovavano femmine lattanti gli infanti quindi dove c'è un servizio di bagliatico interno e nel secolo successivo nel Cinquecento ospita solo esposti e non più orfani poi allora la storia della Cade Dio è molto studiata naturalmente queste istituzioni hanno sempre fame di denaro perché pagare la sede il funzionamento della sede le baglie l'assistenza anche sanitaria costa nel 1784 la sede si sposta dalla zona lì di via San Biagio a quello a San Giovanni da Verdara che era un monastero molto importante anche per altre funzioni che svolgeva all'interno della comunità padovana e dove adesso c'è l'ospedale militare per intenderci per chi conosce Padova e nell'archivio io ho trovato anche tutti i progetti per adattare questo che era un monastero alle moderne esigenze quindi per dire anche i disegni dei bagni fatti ad altezza di bambino ecco Padova poi funge da centro di raccolta anche per gli esposti del territorio quindi este montagnana piove di sacco e quindi rimane lì fino al 1847 e chi amministrava? Allora l'amministrazione è tenuta fino al 1807 data in cui abbiamo già visto c'è la ci sono tutte le soppressioni napoleoniche e quindi la 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 consegna dei beni dell'amministrazione della congregazione di carità ecco veniva prima invece amministrata dalla fraglia dei battuti e tornano appunto questi confratelli i battuti che avevano sede qua avete la foto nell'oratorio dei colombini per chi conosce Padova l'oratorio dei colombini era è tuttora in via del Papa Fava cioè avete via Marsala che una volta è raccontata dello Spirito Santo poi venendo dal centro girate a sinistra e lì c'è questa questo piccolo oratorio poi naturalmente anche qua tutte le vicende legate alla congregazione di carità eccetera eccetera e infine nel 1847 l'istituto compra il monastero degli Onissanti in via alla fine di via Belzoni per intenderci dove è tuttora non si chiama più casa degli esposti istituto per gli esposti ma ci sono ci sono altre istituzioni che vedremo va bene c'è un profondo legame in tutta la storia dell'accadidio di Padova tra la realtà cittadina e l'istituto ecco si verifica nella seconda metà dell'Ottocento un conflitto di competenza a proposito della vigilanza ecco stiamo attenti perché la stessa cosa si ripresenterà per Verona ma qua invece tra provincia e comune vince il comune quindi il grande cioè se volete questa è un po' la caratteristica di molte istituzioni padovane nelle quali entra sempre lo spirito proprio della municipalità della comunità padovana questa è una foto d'epoca che mi fa vedere la ruota degli esposti ecco la ruota degli esposti la vedete ancora se andate lì agli onissanti guardando la facciata sulla destra voi vedete la parte che dà verso l'esterno come funzionava la ruota degli esposti la ruota degli esposti era un cilindro che ruotava ecco e voi mettevate dentro il bambino e poi facevate ruotare la ruota e dall'interno lo potevano prelevare allora il problema è che non si voleva che venissero messi dentro bambini grandi ma possibilmente neonati e allora le ruote erano abbastanza piccole per cui molte volte invece chi voleva lasciare il bambino lo cacciava dentro a forza per cui a volte si creavano anche delle fratture e degli acciacchi a sto povero bambino e quindi la ruota degli esposti a Padova funziona dal 47 fino al 1888 poi vedremo che c'è un altro episodio Veneto che non vi anticipo ma che tenete presente che il Veneto ha fatto anche un'altra cosa attualmente l'invio agli santi c'è spesso servizi alla persona educativi e sociali a sua volta questo deriva dalla fusione tra OPAI e il SEF il SEF a sua volta aveva riunito nel 90 quattro istituzioni cioè IPAI l'Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia che è proprio l'erede diretto della Cade Dio l'IPI una creazione incredibile io mi sono occupata molto dell'IPI è stata fondata nel 1897 da questa donna eccezionale che è la Stefanie Ezeradat Omboni e l'IPI aveva sede e io l'ho visto quando ancora aveva sede dietro al Don Mazza ecco lì dietro e l'ho visto quando appunto ho recuperato l'archivio che adesso è in archivio di Stato e la 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 Stefanie voleva combattere lei aveva fatto anche fondato anche la Lega contro l'accattonaggio quindi voleva rimediare a tutti i guasti sociali determinati dalla neourbanizzazione e quindi l'immigrazione dalle campagne alla città di stuoli di popolazione in con scarsi mezzi quindi il proletariato urbano per cui questi genitori uno avvianzato l'altra che faceva il mestiere più antico del mondo eccetera mandavano a volte i bambini laceri a mendicare per tirare su soldi quindi lei fa questa questa questo istituto per per l'infanzia abbandonata che vuole essere assolutamente laico lei lascia proprio detto che non vuole intrusione di di istituzioni ecclesiastiche e poi i bambini la sera tornano a casa loro perché lei sperava che l'educazione lo stare insieme avere delle occasioni di crescita individuale per il bambino potesse poi determinare degli effetti benefici anche sui genitori appunto così disastrati l'altro che entra è l'istituto riuniti di Padua che a sua volta era sorto dalla riunione degli orfanotrofi riuniti appunto orfanotrofi Santa Maria delle Grazie poi ospizio degli orfani nazareni quindi vedete anche la pluralità di istituzioni che si fondono ma si fondono non con l'ottica di una concentrazione di potere ma con l'ottica di integrare gli interventi al servizio del bambino che rimane centrale ecco rimane centrale ecco e poi anche il centro soggiorno vacanze marine di Padua di cui ci sono anche molte foto nell'archivio molto bello Verona Verona la Santa Casa della Pietà di Verona sorge proprio a livello proprio di collocazione all'interno della città vedete nella piazza principale tra la Domus Nova e la loggia del Consiglio quindi quella che è Piazza delle Erbe adesso e allora e nasce per iniziativa del Collegio dei Notari e poi Venezia concede il Palazzo Scaligero che era l'abitazione privata di Taddea da Carrara che era figlia di Jacopo I da Carrara nostro padovano e moglie di Mastino Spondo della Scala per cui nasce questa leggenda che questo brefotrofio fosse stato fondato da Taddea ma in effetti dagli statuti dei documenti viene fuori che la fondazione è legata ai notari all'inizio anche a Verona si eroga una assistenza generalista quindi si accolgono pauperes i poveri gli egroti ed infirmi quindi quelli che erano malati e si offre si accolgono recipientur e debite nutriantur cioè debbano venire nutriti in maniera congrua dal 1618 accoglie solo esposti naturalmente sempre le solite elargizioni caritatevoli dai privati quindi sottolineo questo questo motto diciamo popolare cioè la gente partecipa non delega ad una istituzione ma in prima persona si impegna almeno a livello finanziario per sorreggere queste istituzioni poi anche qua subentra in epoca napoleonica un po' di ribaltoni istituzionali per cui la pietà ottiene metà delle rendite del soppreso ospedale di San Giacomo e Lazzaro alla tomba che era quello dove erano ospitati i lebroni poi alla pietà entrano anche gli alienati mentali quindi provate a pensare anche a questa promiscuità tra i poveri bambini e gli alienati mentali e naturalmente segue le vicende adotta nel 36 il regolamento veneziano eccetera nel 62 è annessa la casa della maternità dell'allora ospedale civile nel 1862 dopo l'unità all'Italia e fino al 1879 dipende dalla provincia nel 74 abolisce la ruota e nel 79 prende una nuova denominazione che evidenzia la sua dipendenza dalla provincia di Verona cosa succede del 38 viene soppresso come ente autonomo e quindi il patrimonio viene incamerato dalla provincia quindi dal 39 incomincia a funzionare l'istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia che è gestito direttamente dalla provincia poi nel 1982 le funzioni svolte dal IPAI cioè dall'istituto per l'infanzia vengono affidate all'uso adesso non seguiamo nei particolari nei dettagli tutte le vicende istituzionali sta di fatto che attualmente vedete anche l'esito dopo che si è superata la omologazione fascista come un po' si torna alle origini quindi adesso è si fonde con un altro ente costituito tipo di ricerca intervento sociale che è centro polivalente dell'usl scaligera quindi vedete torna in ambito chiamiamolo sanitario in senso lato vedete proprio come nascite diverse fondazioni diverse storie diverse poi vicende più o meno simili nell'ottocento e metà del novecento e poi ritornano un po' le vocazioni originali siamo a Rovigo a Rovigo non c'è un istituto per gli esporti ci sono solo due istituzioni per gli orfani poi vi dicevo Rovigo ha un primato il primato è costituito da questa donna in cui vedete il ritratto che è Jessie White Jessie White è la moglie di un patriota dell'ottocento Alberto Mario Jessie White femminista antelitera porta avanti una battaglia per l'abolizione dell'arbota quindi il primato di Rovigo che nelle varie epoche deve mandare i propri esposti un po' a Ferrara un po' a Padova secondo Rovigo è la terra di confine per eccellenza e quindi un brefatrofio a Rovigo c'è solo per qualche anno quindi dal 1845 è all'ex convento dei Cappuccini a San Bartolomeo e poi ritorna nel 1866 ritorna va in congregazione di carità e quindi nel 1873 la provincia assume il controllo esclusivo dell'istituto e funziona fino al 1888 dopodiché basta i bambini continuano a essere portati a Padova sostanzialmente e naturalmente abbiamo la testimonianza dei disagi di questo trasferimento perché i bambini magari arrivavano lì già con problemi respiratori perché faceva freddo eccetera talvolta anche di denutrizione per cui il trasporto con i mezzi dell'epoca comportava aggiunta di disagio al disagio già esistente Treviso ha come ospedale dal Medioevo Santa Maria dei Battuti è fondato appunto dai Battuti e rimane sempre ospedale generalista tutt'oggi ecco ancora oggi si chiama Santa Maria dei Battuti anche dopo il trasferimento della sede dalla sede da quella originaria vedete qua in questo dipinto c'è anche scritto casa esposti e così Vicenza è un'altra cosa molto particolare sorge come ospedale di Santa Maria e San Cristoforo in San Marcello viene anche qua fondato e amministrato dai Battuti ed è generalista anche questo all'inizio solo dal 1530 eroga esclusivamente assistenza agli esposti nel 1442 c'è la donazione di Francesco da Porto e quindi sapete i soldi ti danno anche la possibilità di governare quindi inizia il gius patronato della famiglia da Porto che dura fino al 1861 nel 1806 viene trasferito alla chiesa di San Rocco che è questa che vedete nella slide e alla chiesa di San Rocco dove aveva sede fino a qualche anno fa il famoso istituto che vi ho citato prima di ricerche di storia sociale e storia religiosa a San Rocco si vede anche lì la ruota la ruota che è dismessa nel 1875 voi vedete la parte da fuori e la parte da dentro ecco vista da dentro poi anche a a Vicenza l'assistenza agli esposti passa di competenza della provincia e sta sotto la provincia fino al 1958 attualmente lì a San Rocco c'è tutta una gamma di servizi sociali a favore delle madri in difficoltà di fatti mi ricordo quando facciamo le riunioni dell'istituto di ricerca c'erano poi questi bambini che giocherellavano vedete qua anche le dotazioni di gioco nel chiostro ecco nel 59 viene realizzato un reparto per l'accoglienza delle nubili incinte e nel 68 una sala maternità è quello che mi sono dimenticata di dirvi a proposito della pietà di Venezia la pietà ha nell'800 nel 900 al suo interno un reparto maternità un reparto maternità che funziona non solo per le donne diciamo che hanno problemi ma funziona anche per le signore regolarmente sposate eccetera di fatti tra l'altro lì ci lavorava il papà della dottoressa Bianca Lanfranchistrina che è stata solo intendente archivistico e suo papà ginecologo è ostetrico ha fatto nascere praticamente mezza Venezia mezza Venezia è partorito è nata perché è partorito all'interno della pietà quindi anche a Vicenza c'è questa sala maternità ecco e qua gli attuali servizi sono gestiti dal comune quindi vedete poi soluzioni molto diverse poi a Vicenza c'è una cosa incredibile è Vicenza il cuore dell'industrializzazione veneta non poteva mancare questa questa esperienza nel 1778 questa Alba Caterina Checozzi lascia il suo patrimonio per la creazione di una struttura industriale perché perché dice a questi trovatelli bisogna dare uno sbocco professionale come aveva pensato la Repubblica di Venezia a Venezia di mandare i ragazzi all'arsenale o nelle corporazioni cioè di fargli imparare un mestiere con cui poi potessero mantenersi quindi anche qua si cerca di fare una cosa del genere ma pensate a esperienze d'altro genere i famosi artigianelli che poi si specializzano nel settore tipografico ecco qua lì l'indirizza soprattutto il settore tessile pensiamo all'industrializzazione tessile dell'Alto Vicentino l'anificio Conte che è del 700 l'anificio Rossi e l'anificio Marzotto e di questo poi nell'archivio ci sono un sacco di foto anche di bambini che appunto imparano il mestiere però dal punto di vista finanziario è un autentico fallimento per cui ad un certo punto questa esperienza viene chiusa forzatamente nel 1875 però vedete anche la preoccupazione non solo dell'assistenza nella fase acuta del bisogno ma il pensare al futuro e ci pensano ecco io voglio chiudere la mia chiacchierata di oggi con questo motto la generosità dei poveri io anni fa ho rilevato gli archivi degli istituti di assistenza e beneficenza della provincia di Rovigo e mi ha sempre fatto una mi ha creato vera emozione leggere nello statuto di questo asilo infantile Vittorio Emanuele di Badia Polesine che è stato istituito nel 1868 leggere che l'asilo che era stato suggerito dall'arciprete cioè dal parroco e anche qua il parroco dice accogliamo i bambini poveri diamo loro un'istruzione un'educazione inseriamoli nel mondo del lavoro però viene sostenuta questa cosa dal comune quindi viene questa cooperazione laico-ecclesiastico e poi ci sono le oblazioni dei privati cioè io lì trovo che i privati cioè la gente normale la gente come siamo noi dava qualcosa quando moriva va bene ma anche si sposava cioè per fare festa non si faceva lo spreco a cui si assiste in certi contesti anche adesso il matrimonio sfarzoso cioè un po' di soldini si davano a questo a questa forma di assistenza che è espressione della generosità di un'intera comunità ecco l'essere comunità dare qualcosa per la comunità che poi dà qualcosa per per gli altri significativamente l'ultima offerta privata è del 1910 ecco io ho finito questa mia chiacchierata che avete visto è fatta con passione perché non puoi rimanere troppo fredda troppo scientifica di fronte a certe storie e queste questa chiacchierata era un po' così nelle intenzioni doveva essere produttiva nel senso pensiamo a cosa siamo stati quindi quando io parlo di empatia della cultura della ricerca cioè capire anche questi poveretti che però facevano festa pensando agli altri ai bisogni alle fragilità degli altri quindi io vi lascio con questi toni con questi toni anche un po' tristi ma uno non può essere sempre giovialmente e giovialmente e incoscientemente allegro grazie 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 a tutti.